Ricorre oggi il 75esimo anniversario del bombardamento su Caltanissetta, avvenuto nel 1943. Circa 350 furono i morti, un momento per riflettere sui valori di pace e fratellanza tra i popoli. Così il sindaco Giovanni Ruvolo, in una nota diffusa da Palazzo del Carmine, durante il pesante bombardamento iniziato la notte del 9 luglio 1943, si legge nello stesso documento, vennero colpiti anche numerosi edifici pubblici, tra cui il comune di Caltanissetta, il Teatro Margherita, l'ospedale. Inoltre molti nisseni si rifugiarono nelle campagne, altri nei pochi rifugi antiaerei presenti, ma la città era impreparata ad un attacco aereo così massiccio. Eppure si attivò anche la parte migliore, la solidarietà, l'impegno dei medici e della Croce Rossa. Anche allora Caltanissetta seppe ripartire dopo la tragedia vissuta.